Nuovo allenamento ormonale, focus, tricipiti e adduttori con l'ospite d'eccezione, sempre lei, mia mamma Patrizia. Ciao a tutti, di nuovo qui. Andiamo! Ragazzi, allora, ho invitato di nuovo mia mamma qui in palestra per un allenamento in meno di 10 minuti con focus, mamma, braccia, tendina e interno fascia. Sono i muscoli che volevi allenare, vero? Sì. Si allena con me all'età di? Onesta. 64. In realtà ne ha 63, me l'ha precisato perché 64 li fa adesso a giugno, però io ho preso con l'anno. Manca poco. Anche io ne ha 41, però dico 42. Allora, detto questo, siamo pronti a partire con questo allenamento. Mamma, sei pronta a scaldarti? Certo. Materiale necessario, due manubri. Guarda, noi abbiamo io da 3 kg e tu da 2 kg, eh? Perfetto. Tutti con noi, ragazzi. Allora, apri bene Arnold Press, qui e tiri su. Ok, vai. Siamo partiti, ci scaldiamo e andiamo, eh? Stai contenta di allenarti di nuovo? Certo. Questo serve per... Ah, vai, chiudi e tira su. Su. Chiudi. Poi va la spalla perché l'ultima volta ci avevi detto che ti faceva leggermente male la spalla. Meglio? Molto meglio. 3. Vedi, allenarsi ci aiuta a combattere tutti e a star meglio. Noi l'allenamento lo viviamo come la strategia più potente che abbiamo per invecchiare bene, Per la famosa longevità. Ok. L'ultimo. Bene, apri bene le gambe. Adesso scaldiamo bene l'interno coscia, la duttore, le mani ai fianchi. Sposta il peso. Destra e sinistra. Vai, apri un pochino più le gambe. Apri un pochino più. Ok, vai. Giù. Scaldiamo senza attaccare le piante nei piedi. Sposti solo il peso. Vai. Ok. Respira. Pronta a partire? Certo. Ma dopo i primi video, com'è andata? Cioè, ti vedono le persone? Qualcuno ti ha detto che ti ha visto? Sì, alcuni sì. Ma chiaramente io mi imbarazzo, ma va bene. Tu ti hai rivista? Sì. Ti piaci? No. Lo sappiamo, però. Quindi ringraziamola ancora di più. Quindi, chiediamo intanto a tutti un like sulla fiducia. Like un commento sulla fiducia per incentivare mia mamma a tornare, per gli allenamenti con voi. Vai. Tre. Due. Uno. Scaldiamo bene. Attiviamo bene la circolazione. Guarda, apri i piedi. Bravissima. Questo sembra un esercizio semplice, ma in realtà è molto efficace, è veramente potente perché attiviamo tutta la nostra circolazione. Quindi andiamo a combattere le stasi circolatori che ci sono anche sulla zona braccia, non solo zona gambe e addominali. Vai, che ormai siamo quasi caldi. Tre. Due. Uno. Ok, le braccia sono calde. Scaldiamo bene le braccia di gambe. Vai, con dei piccoli calcetti. E siamo pronti a partire. Il primo esercizio. Lavoriamo 45 secondi di lavorativo e 15 secondi. Solo 15 secondi di pausa. Ok. Parliamo di livello, dai, i vecchi allenamenti. Un manubrio, te lo prendo io, mamma. Tu da due, io da tre. Primo esercizio per 45 secondi. Porto il manubrio in questa posizione. Dietro. Piego e vado su. Quindi sento bene le famose... Tendine. Bravissima. A lavorare. Ok, andiamo? Stai pronta? Andiamo. Tre. Due. Ho messo il timer. Uno. Vai con me. Scendi. Ok, piega leggermente le ginocchia. Anche voi, eh. A casa piegate bene le ginocchia come noi. La respirazione è fuori l'aria. Quando salgo, prendo l'aria quando scendo, mamma. Ok. Inizia a prendere più confidenza, eh. Sì o no? Certo. Cioè, ormai potresti registrare per ore. Sei sempre più allenata, poi. È un tuo punto debole le braccia? Sì. Purtroppo sì. Allora, questo è la linea. Non è il solo, eh. Ma dai, ma stai bene, tu. Ti puoi lamentare. Però possiamo sempre fare... Di meglio. Di meglio. Brava. Vai. Ancora. Stavano quattro esercizi che ripetiamo per due giri. Questo è il primo stop. Ok, il secondo è interno faccia. Il manovro lo mantengo. Le punte le apro. Ti guardano esterne. Ok. Quindi bella la schiena dritta, scenderò in su. Scendo e salgo. Devo sentire bene il lavoro. Sull'interno faccio. Tre, due, uno. Si va a mamma insieme. Oh, che compagna di allenamento. Ormai siamo una coppia fissa. L'avresti mai detto che alla fine diventavi la mia compagna di allenamento. Eh, sì. Pensa, un periodo c'avevo la super lalli, lì l'aria. Adesso sei te. Ecco, adesso... Vado migliorando o vado peggiorando? Migliorando. Direi che vai peggiorando, voglio dire. Migliorando. Vai, vai. Scendi bene. Respira fuori l'aria quando scendi. Fammi sentire che è fuori. E prendi. Lo stavi. Fuori. Senti, l'interno faccio. Le punte belle esterne. Sì. Schiena dritta. Bravissima. Vai giù. Ancora, ancora, ancora. Olè. Ma papà che dice? Il nostro papà che dice? Dio papà. Non commenta. Non commenta ma è felice. Top. Oggi quando l'ho invitato mi ha risposto lui. Ha detto sì, sì, viene la mamma. Certo. Terzo esercizio. Due manubri, non più uno. Kick back, mamma. Quindi, guardami. Tu rimani frontale, io ti faccio vedere. Da qua, porti dietro i gomiti e spingi qua, ok? Ok. Tre, due, uno. Kick back, andiamo. Anche qui, eh. Guardi l'aria quando vai indietro. Guardi, mamma, così ti guardo, vai. Lo fai bene, eh. Chiudi un pochino più le gambe. Non c'è più spazio di movimento. Ok. Lo senti il tricipite? Sì. Gomiti indietro, spingi, eh. Vai. Belli questi focus, eh. Questi sono due focus che sull'allenamento ormonale sono sicuramente, per una fagiolo, fondamentali allenarli. Portano frutti. Certo. Poi sappiamo che tutti gli allenamenti sono ormonali, eh. Questo è un ormonale che strisca l'occhio alle persone che sono vicine un po' alla tua età, va bene? Appunto. Uno, l'ultimo. Ok, stop. La mia manovra, appoggiamo. Perché il quarto esercizio, che è per il conto, l'interno fascia, mamma. Sì. Gambia aperte qua. Ah, stop, giusto? Sai cosa succedere? Sì. Lavoro bene con l'interno. Deve essere bello veloce. Aspetta, aspetta. Ok. 3, 2, 1, parte questa, vai. Apri bene, apri bene, ok. Devi sentire bene l'interno fascia, eh. La musica ti piace? Molto. Musica bellissima. Ragazzi, perché la musica la metto dopo. Quindi in questo momento noi stiamo registrando in totale... Silenzio. Però in realtà senti invece, c'è la musica sotto. Sì. Vai. Ancora. Forza qui. Pensa che c'è questa musica e noi stiamo andando a terra. Pensa se non andiamo a tempo. Tutti andando pian piano fuori, eh. Vai. Occhio. Pochi secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, mamma. Se mi parte il secondo giro, tutto uguale per un secondo. Quindi, il primo esercizio, 1 e 1, French press. Ok. Qua. Vabbè che è uguale, eh. Andiamo un pochino più indietro, così siamo sicuri di stare... sull'inquadratura. 3, 2, pica le gambe. 1, vai. Giù. E su. Ora ti interrogo, è la respirazione com'era? Allora. Vai. Allora, vai. Fuori l'aria quando sali, prendi l'aria quando scegli. Ok. Vai. Vai, vieni con me però. Ok, vai, 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 vai. Ho fatto in modo io di essere al tuo tempo. Vai. Per il giro sei diventato trainer. Non ti vedo. È vero, perché abbiamo una luce davanti sparata. Ancora. Forza qui. Dai mamma, gli ultimi, gli ultimi. Allora, su. Ancora ci abbiamo qualche secolo. Senti le braccia? Sì. L'ultimo. Stop. Ok. Porti davanti il primo. Quindi ora mi raccomando, meglio di prima con la punta, eh. Voglio guardare le punte che guardano proprio esterne. Cioè, ok. Abbiamo il tempo anche di recuperare. Fra indichiato, tra tre secondi partiamo. Due. Uno. Si va. Giù e sumo. Scendi. Scendi bene, eh. Ok. Questo allenamento utilissimo da fare sia la mattina appena si svegli o in questo momento proprio in cui lo stai vedendo. O la sera. Vai, eh. Scendi e sali. Scendi e sali bene. Col sorriso, mamma? Sempre. Noi siamo quelli di allenarti con il sorriso, lo so, eh. Certo. Fa meno male. Guarda giù. Vai, scendi. Ok. Giù. E su. Sì. Vai, eh. Figa bene, eh. Stina dritta come me. Com'è? Bene. Due. Uno. Stop. Il terzo, te lo ricordi? Sì. Kickback. Quindi, passo manovrio. Guarda che cavaliere, non ti ho mai fatto piegare per prendere i manovri. Bravissimo. Ti ho detto così, così lo vedono anche loro, eh. Che viene. Posizione. Tre. Vieni. Due. Uno. Vai. Ok, dai, se no. Fiamma la testa, va bene. Ti asso. Vai, ho preso io il tuo tempo. Puoi ridare quando vai indietro, è fuori. Questo è come uno sciatore. Hai mai sciato? No. Eh, infatti, anche poco, eh. Non mi avete mai portato a sciare nemmeno quando ero piccolo. Sono più da caldo, vedo io, anche tu. Sì, decisamente sì. Mi piace il mare. Vai. Quindi iniziamo a ragionare anche per l'obiettivo estate, eh. La famosa prova? Costume. Sai che non piace? Dolente. Dice che non è bello parlare di prova costume, però lo prendiamo noi. Non come qualcosa che ci spaventa, ma come un obiettivo per fare sempre meglio. Due. Uno. Ok, giù l'ultimo, mamma. Dammi i manovri. Vai. Anche tu continuavi? Vai. Rifer farla ancora. Non spreco niente. L'ultimo, te lo ricordi? Sì. Prima, pian piano, stavi spostandosi sempre verso la pista centrale. Tre. Due. Uno. Vai. Bene, eh. Vabbè, eh. Tocca bene, eh. Interno. Sorridi. Ti abbiamo lavorato anche oggi bene. Abbiamo regalato un nuovo allenamento ormonale. Quindi sei pronta già per il prossimo? Certo. Ditta con la schiena, eh. Non è la schiena che scende, sono le gambe che salgono. Tac. Tac. Questo è utilissimo e lo possono fare veramente tutti, eh. No? Tu sei un esempio in questo, eh. Te la capo tribu oggi. Vai. Pochi secondi, abbiamo fatto. Tre. Due. Uno. Ok, stop. Respiro. Eh, però abbiamo lavorato, eh. Fuori l'aria. L'ultimo. Invitiamo tutti a fare stretching sul mio canale YouTube, dove trovano un bel video stretching. E noi gli diamo appuntamento al prossimo allenamento ormonale insieme. E ricordatevi sempre di allenarvi con... Il sorriso. Il sorriso. Grazie a tutti.